Musica Bentornati ad un nuovo appuntamento di Linea Comune, siamo nel municipio di Battipaglia, ovviamente oggi non possiamo non parlare di ambiente e lo facciamo con l'assensore all'ambiente Stefania Vecchio. Benvenuta, anzi benvenuta ve lo dico da sola visto che in qualche modo è casa vostra. Benvenuti, buonasera. Allora, assessore, è chiaro che entro subito nel merito dell'argomento più importante, poi magari raccontiamo anche le altre cose che sono state fatte. Ovviamente d'essa preoccupazione quanto è avvenuto un paio di giorni fa, l'incendio dell'azienda Nappi, quella notte che ha risvegliato anche un po' i ricordi dello scorso anno. Sembra un po' perseguitata questa città e la paura dei cittadini è proprio quella che possano essere in qualche modo nocivi questi fumi. Insomma, a che punto è la situazione, che controlli sono stati attivati e quali altri controlli farete? La sera tra domenica e lunedì abbiamo avuto realmente paura perché le fiamme erano altissime, era uno spettacolo pauroso. Chi ha vissuto quelle ore sa che abbiamo molto temuto per il peggio. Per fortuna poi con il passare delle ore si sono chiariti gli ambiti che erano stati toccati dall'ambito dal fuoco e il materiale che era andato in fumo che era bruciato. Quindi diciamo siamo stati rassicurati in questo anche dai vigili del fuoco. Quella notte sono arrivati sui luoghi vigili del fuoco, polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale, protezione civile. I eti ho detto mancavano solamente i granatieri di Sardegna e la cavalleria. Insomma eravamo al completo quindi molta attenzione ma anche per fugare quelle che erano le preoccupazioni di ognuno di noi. Non è che l'amministrazione non abbia paura o non abbia timore per la salute dei cittadini ma che è anche la nostra salute. Immediatamente l'ARPAC ha fatto dei primi campionamenti che però non hanno quel valore di certificazione che si chiede alle analisi dell'ARPAC e ci aveva già subito calmati da questo punto di vista, cioè ci aveva rassicurato che data pure la qualità del materiale che era bruciato non c'erano immediate ricadute sulla salute dei cittadini. Non c'erano ricadute sulla salute dei cittadini. Lunedì nel pomeriggio sono state montate le centraline fisse che sono ancora in attività e diciamo che l'incendio è un incendio oramai controllato come viene definito dai vigili del fuoco perché stanno ancora avendo questi piccoli focolai, i materiali di cartone pressato che sono presenti ancora in questa struttura che oramai è collassata. Intanto però c'è stata subito un'ordinanza del sindaco di sgombero cautelativo in un certo senso. Ma quella è un'ordinanza che si assume in questi casi proprio perché non avendo a disposizione immediatamente tutti quanti i riscontri e le analisi è un'ordinanza che si emana anche per buon senso, tra virgolette. In presenza di fumo tenere porte e finestre chiuse penso che non ci sia bisogno di un'ordinanza ma è nel comune sentire di ognuno di noi. Poi ovviamente si è stabilita anche l'evacuazione di quelle abitazioni che erano nei 100 metri. Ma penso che questa sia in presenza di un incendio una regola minima anche per non ostacolare le operazioni di spegnimento. Ovviamente questa ordinanza ha effetto fino al termine, fino alla conclusione insomma delle operazioni di spegnimento. È ovvio che concluse le operazioni di spegnimento questa ordinanza cessa di avere efficacia. Altra regola di buon senso è quella di lavare frutta e verdura. Ma penso che ognuno di noi normalmente lo faccia. Rispetto all'incendio dello scorso anno, è più pericoloso o è stato meno pericoloso questo? Sicuramente è meno pericoloso. Invece dal punto di vista del perché, ci sono delle informazioni che magari voi avete più di noi giornalisti, come è successo? Sono cose che non dovrebbero comunque accadere, a prescindere dalla qualità del bruciato? Ciò che ha permesso di contenere i danni sicuramente è stato anche il sistema antincendio che era presente all'interno della ditta. Un ottimo sistema di antincendio, azionato da squadre specializzate in questo, che hanno permesso con l'aiuto anche dei vigili del fuoco, perché le azioni sono state coordinate dai vigili del fuoco, però che hanno trovato un validissimo supporto in queste squadre che erano già presenti. No, che erano squadre dell'azienda? Della ditta. Figuriamoci se non ci fossero state allora. Perché i vigili del fuoco ci hanno sussurrato in un orecchio che non si tratta di un incendio avvenuto per cause accidentali, perché la rapidità con la quale si sono propagate le fiamme e le modalità di propagazione portano immediatamente ad escludere una causa accidentale. Quindi insomma qualcuno potrebbe avere appiccato il fuoco dall'esterno. Questi saranno gli inquirenti a fornire. Resta il fatto che forse bisogna avere un'attenzione più alta e sicuramente bisognerebbe che tutti facessero un bel esame di coscienza, nel senso responsabilizzarsi, perché come diceva bene l'assessore prima, siamo tutti preoccupati per la nostra salute. Ci saranno ulteriori controlli in futuro? Rispetto a questi impianti si può fare qualcosa? Perché io ricordo che l'anno scorso l'ho seguita bene la vicenda. Insomma avete mandato anche nelle aziende private controlli su controlli. Ma questi controlli non sono mai terminati, tant'è vero che i risultati si ottengono adesso a balle praticamente di oltre un anno di controlli, di fide, di ottemperanze alle diffide e poi alla fine arrivano, scattano i sequestro. In questo noi più volte abbiamo, per queste attività noi abbiamo chiesto ovviamente anche alla procura e a Enoe di attivarsi, perché ci sono determinate attività che possono essere eseguite esclusivamente dagli enti che rilasciano le autorizzazioni. Quindi noi abbiamo chiesto a tutti questi enti di valutare se quello che effettivamente veniva esercitato era quanto previsto nell'autorizzazione. Quindi il come viene esercitato, le quantità che vengono trattate, le modalità di smaltimento, anche del percolato che viene, che si crea durante queste attività, lo possiamo controllare noi e noi lo facciamo. Però ci sono enti preposti che devono certificare che quanto effettuato da queste società sia ciò che effettivamente è stato autorizzato. Quindi l'attenzione rimarrà non alta ma altissima nei prossimi mesi, anche perché sappiamo che sta arrivando l'estate e con l'estate le problematiche relative a rifiuti aumentano, perché appunto abbiamo visto anche qualche settimana fa l'allentamento dello stir, e quindi ci potranno essere ulteriori complicazioni, anche per quanto riguarda i famosi miasmi. Allora diciamo che rispetto all'anno scorso la situazione olfattivamente è modificata, perché appunto questa ciclicità e questa continuità nei controlli che ha investito non solamente le aziende che hanno a che fare con il trattamento dei rifiuti, ma con tutte le aziende presenti in zona, ha permesso se non altro di controllare meglio e quindi praticamente di richiamare le aziende che non fossero virtuose. Il Comune di Battipaglia, questo tendo a precisarlo anche perché ho letto dichiarazioni che non sono proprio veritieri, non è che sta perseguitando gli imprenditori. Il Comune di Battipaglia vuole favorire quegli imprenditori che siano rispettosi proprio delle regole che sono loro imposta, perché non si può consentire che si possa fare lucro profetto sulla salute e sulla pelle dei cittadini. Assolutamente sì, quindi non si perseguita ma controlliamo. Assolutamente, e poi c'è un'altra attività che andrà in, diciamo così, che verrà sviluppata dal primo di luglio in poi, perché sul territorio, allora Battipaglia diventerà un caso di studio, se me lo permettete, se mi permettete questa. Dal primo di luglio verranno installate sul territorio di Battipaglia nove centraline per il controllo della qualità dell'aria, quindi non solamente polveri sottili, PM10, PM2, ma anche per le sostanze, diciamo così, od origine. E questo che cosa significa? Che ci saranno nove centraline, quindi che mapperanno l'intero territorio, che ogni tre minuti effettueranno analisi, campionamenti e daranno i risultati in tempo reale. Questo tipo di attività è stato possibile perché è un progetto che ci è stato donato dal club Rotary di Battipaglia in collaborazione con una start-up innovativa che si chiama Sense Square, che ha sede a Salerno, e proprio per fornire un tipo di strumentazione che sia atta a rispondere immediatamente alle esigenze. Se viene registrato un problema in una determinata zona, un controllo fatto ogni tre minuti ci può dire immediatamente qual è l'origine, quali sono le sostanze che creano il disturbo. Se c'è un'allerta per determinate sostanze inquinanti, permette poi all'ente di assumere decisioni immediate, non attendere i risultati dell'ARPAC che pur certificati, pur impeccabili, arrivano con due mesi e mezzo di ritardo, con tre mesi di ritardo. E quindi immagino che queste centraline siano anche messe in posti strategici. Certo, è stato mappato l'intero territorio, quindi praticamente sono state create queste interconnessioni in modo da avere una fotografia dell'intero territorio. E questo è un progetto che durerà due anni. Perfetto, quindi andremo a verificare per 24 mesi com'è la situazione. Ovviamente quindi possiamo rasserenare, in conclusione possiamo rasserenare i cittadini rispetto all'incendio che c'è stato. Ovviamente vedremo... Appena otterremo i risultati, appena ci verranno trasmessi i risultati, noi li renderemo immediatamente pubblici. Anche perché sia l'ARPAC sia l'istituto zooprofilattico di Portici si sono attivati immediatamente. Quindi già nella giornata di lunedì hanno eseguito tutta una serie di rilievi e stanno continuando a defettare. E in effetti insomma a livello palpabile sentiamo meno gli odori molesti dello scorso anno. Almeno ad oggi, ovviamente andiamo sempre con calma, verifichiamo questa cosa, però a oggi sembra che si vada un po' meglio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Poi verificheremo ogni tinere. Invece per quanto riguarda altri progetti che si sono conclusi in queste ultime settimane, tipo il patto per la sicurezza? Ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato questo patto per la sicurezza, i cui termini per la presentazione del progetto scadevano il 30 giugno. È un'idea interessante e molto innovativa, perché è stato studiato un sistema di controllo attraverso una serie di telecamere in punti strategici della città. Perché è importante questo patto per la sicurezza? Perché è stato stilato dall'ufficio tecnico. Io per questa ragione voglio pubblicamente ringraziare l'ingegnere Carmine Salerno. Ma è stata fatta di concerto questa progettazione insieme al comandante Iuliano della Polizia Municipale, con il capitano Fasolino dei Carabinieri e con la dottoressa Concia della Polizia di Stato. Quindi praticamente tutte quante le forze dell'ordine operanti sul territorio di Battipaglia si sono raggruppate per studiare uno strumento che possa realmente essere utilizzato per sia ragioni di contrasto alla criminalità, quindi azioni coordinate tra loro. E anche poi per un controllo del territorio in un altro verso, anche sempre quello dell'ambiente, per esempio per lo sversamento dei rifiuti, perché queste telecamere sono dotate anche di lettore ottico. Quindi immediatamente leggono la targa e quindi danno, restituiscono alcune di queste, non le immagini, ma proprio il nominativo. Il numero della targa e la proprietà. Il nominativo del proprietario. E questo è importantissimo. Anche perché vediamo che a livello di sversamento di rifiuti in tutta il territorio di Battipaglia purtroppo continuano, soprattutto in quei posti nevralgici, tipo la zona industriale Traeboli, Battipaglia, la Versana, ci sono effettivamente discariche abusive, chiamiamole così. Un discarico a cielo aperto. Ma questo non è solamente nelle zone periferiche, è anche al centro cittadino. Allora, io purtroppo ho dovuto appurare che c'è una generale mancanza di senso civico. Assolutamente. Allora, io ringrazio Alba perché obiettivamente in questi mesi, contrariamente a quello che si dice che non lavora, ha lavorato tantissimo, però gli allarmi sono tali, le richieste sono tante e tali, che è difficile coordinare tutti quanti gli interventi. La zona industriale si pulisce la mattina. C'è un po' sulla sicurezza proprio che capirà l'industria. Sì, perché praticamente questo è in diretto collegamento con il patto per la sicurezza. Verrà fatta la stessa cosa in zona industriale. Quindi l'ASI candiderà un progetto per fare la stessa cosa in zona industriale con la possibilità di interconnessione dei dati. Quindi praticamente i dati del comune di Battipaglia e quelli della zona ASI si parleranno tra di loro questi sistemi e daranno una mappatura dell'intero. Certo, è una sorta di fallimento per l'amministrazione in questo senso. Cioè la mancanza di responsabilità da parte di cittadini, la mancanza di senso civico da parte di cittadini che invece a volte criticano anche l'operato è un po' un controsenso. Io non parlerei di fallimento perché io sto riscontrando comunque in tanti cittadini proprio un modo di ribellione nei confronti di coloro i quali sono... Eh, lo so, però sempre cittadini sono. Insomma, bisognerebbe capire il motivo per cui... Perché non succede solo a Battipaglia, ovviamente. Succede in tutte le città dove c'è la raccolta differenziata. Abbiamo chiesto alla polizia... Cioè, è una questione di pigrizia. Io non so cosa sia. Noi abbiamo chiesto alla polizia municipale, ma anche ad Alba... Allora, ad Alba abbiamo chiesto una mappatura di queste zone per capire anche se ci può essere una... Con che motivazione. Poi, invece, alla polizia municipale abbiamo chiesto un maggior controllo anche in termini sanzionatori. Perché purtroppo, lo devo dire con molto dolore, Capiscono... Allora, gli tozzoni, gli incivili capiscono solamente quando vengono colpiti... Certo. Nella parte economica. Altrimenti non c'è possibilità di far loro capire, perché se non sono arrivate ad una certa età e non capiscono che determinate azioni hanno un diretto riverbero anche nei confronti degli altri cittadini, non solamente in termini di pulizia delle zone, ma anche economicamente, perché bonificare queste discariche a cielo aperto comporta un costo che ricade solamente su tutta la comunità, non solamente sulle persone che hanno effettuato questi sversamenti. È chiaro, è chiaro, è chiaro che è così. Però forse magari bisognerebbe anche pensare in futuro a, non so, sensibilizzare con qualche progetto che riguarda la raccolta differenziata. Abbiamo già iniziato a mettere in campo per settembre questi progetti di... vogliamo ricordare quali sono le buone regole per la raccolta differenziata. Cercare di arrivare a una percentuale più alta. Attualmente a quanto siamo, Battipaio, come raccolta differenziata? 65%. Quindi si può fare di più, si può dare di più. Va bene, allora noi abbiamo fatto quest'ampia finestra proprio sui rifiuti, perché era fondamentale, del resto avevamo l'assessore, non potevamo non spremerlo il più possibile. Quindi la ringraziamo, se non c'è altro, e noi ci rivediamo prossima settimana. Ci auguriamo di vedere la sindaca, perché oggi era impegnata, e come sempre le ringraziamo per averci seguiti. Se dovessi avere qualche segnalazione da farci, fatelo attraverso il sito, la pagina Facebook di Sud TV, oppure con l'email redazionesudtv.gmail.com Grazie ancora per averci seguiti, appuntamento alla prossima settimana. Buonasera. Grazie a tutti.